Sava nel cuore e sul tetto del mondo. Tra 1711 allunni, 289 scuole e 19 nazioni, la scuola Savese Giovanni XXIII conquista il primo premio al concorso internazionale Luigi Pirandello di Agrigento. Con i compagni è stato bellissimo, un'esperienza bellissima. Due lavori, due cortometraggi in gara, le due verità della classe seconda F e skills cards della terza E, coordinati dai docenti Barbara Distratis, Lea Perrucci e Roberto Basciano. Davvero divertente lavorare con lui, ha sempre idee, ci coinvolge in ogni cosa, sia nella scrittura del copione, sia nelle riprese. Ma la scuola Giovanni XXIII non è nuova a riconoscimenti e premiazioni. Abbiamo chiesto alla dirigente qual è il loro segreto. Supporto tantissimo i miei docenti affinché possano riuscire a tirare il meglio dagli alunni, tutte le grandissime potenzialità di cui sono portatori. Abbiamo vissuto un'esperienza che non avremmo mai nella nostra esistenza pensato di avere. Quando sono andati ad Agrigento abbiamo vissuto pienamente come se noi fossimo lì a 700 chilometri di distanza. Hanno portato alto l'istituto, il nostro paese, noi genitori, tutti quanti.